C'è grande attesa per i fan di Guerre Stellari per l'ottavo capitolo della saga, Gli Ultimi Jedi. Ora, uno dei protagonisti, John Boyega, ha deciso di deliziare i fan con una chicca direttamente dal set del Colossal targato Disney. La visita dei principi d'Inghilterra, Harry e William, sul set del film era stata documentata da diverse foto e non era un segreto. A quanto pare però si è trattato di più di una semplice visita e gli eredi al trono si sono divertiti a partecipare al film con un piccolo cameo nei panni di Stormtroopers e quindi irriconoscibili. Ne ho abbastanza di questi segreti, William e Harry sono stati sul set e io sono stanco di nasconderlo, ha dichiarato scherzosamente Boyega durante un'intervista radiofonica. Non è la prima volta che le divise integrali di Stormtroopers nascondano volti celebri, in passato era toccato anche a Daniel Craig e Jessica Henwick. Le altezze reali William e Harry potrebbero non essere le sole guest star degli Ultimi Jedi, si mormora che sul set ci sia stata anche una visita di Tom Hardy e per l'attore inglese potrebbe essere stata prevista anche una battuta. L'ottavo capitolo della saga di guerre stellari che in Italia arriverà il 14 dicembre è il secondo della trilogia sequel dopo Star Wars Il Risveglio della Forza ed è ambientato immediatamente dopo gli eventi visti in quel film. Nel cast, oltre a Mark Hamill, John Boyega e Benicio del Toro, anche la scomparsa Carrie Fisher che aveva terminato le riprese prima di perdere la vita improvvisamente nel dicembre 2016 a causa di un infarto.